KetoCrap e gli spinaci, ottima base per i tuoi piatti salati. Nel boccale del tuo blender versa gli spinaci con il latte vegetale, l'uovo leggermente sbattuto, sale e pepe. Frulla fino ad ottenere un composto liscio, poi aggiungi farina di semi di lino e buccia di psyllium e mescola ancora. Riscalda un padellino con dell'olio d'oliva e versa metà del composto, fai cuocere ad entrambi i lati e poi lascia asciugare su un foglio di carta assorbente. Le KetoCrap sono pronti, adesso farcisci come più ti piace.